Ciao a tutti, io mi chiamo Marco Raimondi, da anni, ormai più di dieci, collaboro con una ditta che si chiama BOMAP qui a Bologna. BOMAP è una ditta che importa esclusivamente prodotti per batteristi e per percussionisti. Il materiale che la ditta mette a disposizione è assolutamente al top. Fra tutte le cose che posso avere il piacere di suonare, che posso avere il piacere di usare, ci sono anche le bacchette Innovative Percussion. Io personalmente uso le Legacy 5A, le trovo veramente veramente efficaci, molto resistenti e molto ben bilanciate, non si consumano, questa è la cosa innovativa, il legno non viene tagliato dai piatti. Come dicevo hanno un ottimo bilanciamento e durata, i legni sono ottimi, sul piatto hanno un suono bello, caldo, morbido. Sono bacchette quindi che avendo queste caratteristiche suonano meglio e durano molto di più rispetto alle altre. I modelli sono veramente tanti e quindi adatti a ogni batterista e a ogni esigenza. Consiglio di provarle perché sono prodotti molto buoni e molto performanti. Questo è tutto, ringrazio ancora la BOMAP per la continua collaborazione, per la fiducia e per la grande professionalità che mi ha sempre dimostrato. Ciao! Ciao!